allora ragazzi vi starete chiedendo perché sono scomparso e la veri la risposta è lo stesso motivo per cui voglio tornare a fare i video cioè la droga poi ho visto tipo un vlog di una ragazza che sta a parigi e vloggava ho detto anche io voglio vloggare perché così la mia vita sembrerà migliore e poi per avere visto che ho il disturbo ossessivo compulsivo devo crearmi dei stimoli esterni per fare le cose quindi se devo vloggare allora devo per forza fare qualcosa di bello durante la giornata e poi no niente oggi vi vloggerò il mio bellissimo la mia bellissima giornata di sabato non so quanto soffrivo così devo riciclare questo outfit e poi che devo dire no niente sto in certo sono tra noi ciao ragazzi oggi siamo riuscito a 4 il mio ragazzo un'altra coppia ciao miei fans questo è il ministero dell'istruzione venivo da piccolo qua a protestare contro la scuola queste sono persone morte ciao miei fans ho visto io a anni in lingua originale senza leggere i sottotitoli perché io sono inglese volete sapere anche voi l'inglese usate il mio codice sconto per cambli ragazzi mentre stavo al cinema mi è venuta voglia di ricercare delle informazioni come facciamo noi cinefili per informarci prima del film e mi sono collegato al wifi della cinematurisi ma lo sapete che il wifi può essere molto pericoloso usate il mio codice sconto nordvpn allora voto film io direi un nove del genere però c'è considerando il genere 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 con me vd allen hashtag commedia hashtag love coppie rapporti così io sono una persona cosa mi è piaciuta la scena della cocaina comunque c'è è un bel film non lo so poi non mi sono immedesimato molto il personaggio perché ho dei sentimenti che alla momo e chiudono la live ho dei sentimenti contrastanti verso le donne però un bel film vuoi dire qualcosa fuori campo no sono d'accordo con l'analisi e poi nulla il cinema è molto bello ve lo consiglio non mi hanno pagato e c'era una donna accanto a me questa foto abbassare vabbè lasciamo vedere allora cari miei fans continuo il mio vlog ho mangiato il kebab da kebab station un volo bel 7 se lo becca una ragazza mi ha guardato io anni un film non per inizial come me devo ricordarmi a non mettere il dito davanti alla mia telecamera vabbè finito miei fans guardate che bella roma ostia mi piace andare nei treni in mezzo a roma perché ti fa sentire che stai viaggiando ma stai a roma